Allora, salve ragazzi, in questo tutorial guardiamo come creare un'azione per imprimere su una foto il logo del copyright io ho visto il bel tutorial e ve lo voglio riproporre anch'io in pratica il risultato finale dovrebbe essere questo a qualsiasi foto che noi possiamo usare applichiamo questo logo del copyright che è uno shape di default dentro Photoshop applicato però costruito con un'azione noi sappiamo che in Photoshop abbiamo appunto la finestra azioni dove ci sono delle azioni preimpostate, adesso lì ne abbiamo alcune che eseguono delle varie azioni che noi applichiamo nella nostra foto in questo caso ne faremo una appunto per applicare il logo del copyright allora, per prima cosa per prima cosa, allora, noi dovremmo andare a creare una cartella io per comodità l'ho creata dentro la cartella di Photoshop l'ho chiamata azioni personali dove ho creato il logo per il copyright adesso non lo cancelliamo così lo rifacciamo da capo questo perché? perché durante lo svolgimento dell'azione di Photoshop deve sapere esattamente dove si trova il file il percorso, la cartella per poter andare avanti con questa azione e il file deve sempre rimanere in una zona specifica dove noi lo salviamo e poi qua lo decidete voi o per comodità addirittura dentro la cartella di Photoshop molto bene incominciamo con il nostro Photoshop facciamo, apriamo un nuovo file ok io l'ho impostato lo chiamiamo subito a copy rict io l'ho impostato 640x480 il background trasparente ok 72 molto bene avendo il nostro background trasparente quando entriamo sui shape ok selezioniamo e come vediamo qua possiamo scegliere il nostro shape e vediamo subito che è un simbolo preimpostato dentro in Photoshop lo scegliamo con il tasto shift maiuscolo clicchiamo così mantiene le proporzioni e facciamo la nostra c'è di copyright ok adesso qua l'ho colorato subito di nero perché il colore era sul nero il foreground color è nero lo spostiamo un po' più a destra per centrarlo un po' ok prima cosa per fare quell'effetto lì semi trasparente diminuiamo tutto il riempiemento del colore lo mettiamo a zero ok andremo sugli effetti selezionati andremo sugli effetti blending option andremo un inner show ok che fa questo effetto dell'ombra che sembra scavato è un bevel e metteremo la dimensione sui dieci dopo fate anche voi quello che vi aggrada di più ok devo farti degli esperimenti tutto il resto tu fai dei contorni come volete aumentare di più la cosa mettiamo un contorno boh benissimo salviamo questo file salva copyright sempre in psd ok lo salveremo nella nostra azione cartella che abbiamo creato in precedenza infatti noi andiamo dentro la cartella che ho creato prima in cosi vediamo il nostro logo ok psd questo noi possiamo chiudere adesso apriamo la foto che noi interessa questa qua la cancelliamo molto bene apriamo questa foto la sapete che la l'avevo rinominata ok la apriamo con photoshop si assegna il valore ok benissimo da questa foto noi applicheremo quello che è poi il nostro logo del copyright andremo nella nostra finestra azioni prima cosa creiamo una nuova cartella che la chiameremo come volete dove ci saranno dentro le nostre azioni che creeremo in futuro ok e le quali diciamo di creare una nuova azione dentro il set pixbarco ok copy copy read ok colore va bene potete segnare un colore orange e scrittiamo su record adesso d'ora in poi qualsiasi sezione che applichiamo a questa foto verrà registrato nella nostra azione visto che è iniziato il record prima cosa faremo file place ok dentro la nostra azione personali andremo a scegliere il nostro logo copyright ok place molto bene qua se noi lo vogliamo ridimensionare lo ridimensioniamo o lo teniamo alla grandezza che volete ok lo possiamo spostare se non lo volete al centro adesso lo spostiamo da questa parte ok vediamo che la nostra la nostra cartella azioni è venuto fuori dentro il comando place adesso le diciamo di file salva bitch 04 gli metteremo copy se non lo mettiamo dentro il nome immagine copy read ok gli diciamo di salvarla in jpeg o in qualsiasi altro formato che volete e gli diciamo di salvarla nella cartella che volete io decido di salvarla nella cartella dei download ok jpeg salva massima qualità molto bene e gli dico poi di chiudere file chiudi non salvare don't save ok e diciamo di stoppare il tutto noi adesso se dovessimo andare a vedere dentro la nostra cartella download abbiamo salvato la nostra immagine con il nostro logo copyright molto bene la cancelliamo e facciamo una prova se la nostra azione è stata registrata correttamente vediamo con questa allora applico photoshop ok e diciamo copyright dovremmo esserci e fate che qua ci siamo se guardiamo ecco che ci ha spostato il nostro immagine applicato sulla nostra immagine il logo del copyright spostato come avevamo spostato in precedenza e vogliamo provare con un'altra immagine la cancelliamo facciamo questa apri con photoshop tenendo conto che qua sono tutte immagini immagini molto grande che io sto usando andiamo sempre sul nostro copyright tagliamo play molto bene vediamo che è salvato e nello stesso modo vedremo il nostro copyright applicato alla nostra foto ok ragazzi per il momento è tutto alla prossima grazie a tutti